Cosa ha fatto prima e dopo? Questo è il tema al centro delle ultime dichiarazioni di Sara Toscano. La fresca vincitrice di Amici 23. Dopo il trionfo nel noto talent show, Sara ha scelto di aprirsi in un'intervista toccando punti salienti come il suo futuro e la sua relazione con Anna Pettinelli. Sara Toscano rompe il silenzio su Anna Pettinelli. Il successo di Sara è attribuibile alla sua costante crescita personale e artistica. Un percorso che i fan hanno potuto seguire e supportare attivamente. Ecco cosa si legge sui social. In questi mesi è cresciuta tantissimo ed è questo quello che deve fare una scuola. In un programma di artisti che si sentono già arrivati ha vinto una semplice ragazza che è riuscita a rincorrere il suo sogno. Ha vinto la leggerezza, la dolcezza, il pop. Sul suo futuro, Sara ha le idee chiare e ambiziose. Amici è solo un trampolino e sono consapevole che il vero gioco inizia qua ma non so cosa aspettarmi. So solo che voglio vivere di musica. Tra le sue ispirazioni cita icone come Dua Lipa a livello internazionale e analisa nel panorama italiano. Ammirandone l'eleganza e il talento vocale. Sarebbe un onore per me collaborare con un artista come lei. Nel mirino anche Anna Pettinelli. Figura controversa durante il percorso di Sara. Nonostante le difficoltà. Sara afferma di avere tratto forza dalle critiche. Anche quelle più dure. Mi sono servite. Mi hanno spronata a migliorarmi. Il culmine di questo rapporto difficile è stato un momento di riconciliazione. Quando dopo la vittoria, Anna Pettinelli l'ha abbracciata. Ammettendo il valore del suo percorso con le parole. Te lo sei meritata. Hai fatto un percorso incredibile. Nonostante l'apparente pacificazione. Alcuni fan di Sara continuano a richiedere un ulteriore gesto di scuse da parte di Anna Pettinelli. Segno che il malcontento per alcune sue uscite passate non è completamente svanito. Credo che dovresti chiedere scusa per tutto quello che hai fatto. Sarebbe opportuno e anche un bel segnale. Con Sara non ti sei comportata bene. Dire ad una ragazza di 19 anni che è una lolita equivale a offendere. A proposito del futuro di Anna Pettinelli, sembra che ci siano novità all'orizzonte. Con Veronica Peparini pronta a tornare in pista. Questo movimento nel cast di Amici potrebbe portare nuove dinamiche. Accogliendo con entusiasmo il ritorno di una delle figure più amate del programma.